Buonasera a tutto il gruppo, Callori Group, oggi una giornata con Duilio Torres. Eccolo qua, Duilio, eccoci qua, ciao Duilio, che bella diretta, come stai Duilio? Tutto bene, mi sono ripreso dopo colorista vincente. Ma ti faccio vedere che panorama che c'è qua, che è pazzesco, tutti i viti guarda. E' meraviglioso, Duilio, ma che posto è precisamente questo? E' la collina di Imola. Sono tutte colline? Tutte colline intorno, io adesso qui, se lo fate vedere di qua, ma va tutto oltre, tutto oltre. Come stai? Tutto molto bene, tutto benissimo, contento del corso, del seminar, mi conosce nell'altra casetta, con Nunzio, che è qui con me, con mia figlia. Lui ha fatto il corso con me. Ciao a tutti, non ci conosciamo, ma va bene lo stesso. Ciao a tutti. E quindi, insomma, siamo qua. Allora, ti stai riprendendo da questi due giorni tour? Ma guarda, sì, ieri ero praticamente a pezzi, però è stato talmente bello che l'adrenalina non mi ha fatto neanche dormire. Quindi è stato bello. Poi sono delle giornate intense, poi lì a Roma è fantastico. Come tu ben sai, a Roma ci sono i romani e quindi si sta sempre bene. E poi, insomma, ci sono tanti progetti che bollono in pentola, quindi vediamo un po' di fare qualcosa di bello. Ma lo sai che cos'è? Io volevo dirti una cosa, che credo che sei uno dei primi in Italia. È molto importante questo per la ripartenza. Ah beh sì, ci vuole una dose di pazzia, è vero. Ma io ce l'ho, anche perché è molto bello fare i corsi privati, perché faccio anche quelli. Ma davanti al pubblico c'è un'altra marcia, un altro pathos e tutto quanto viene meglio. Poi vabbè, mi hanno molto aiutato Salvatore Carenza e Mauro Cagliotti nell'organizzazione di questo evento, che sono due fantastici parrucchieri di Roma. E quindi è stato tutto molto bello, emozionante. A questa soddisfazione di un progetto che era, nelle parole, dall'ultima intervista che abbiamo fatto, ai Fatti Veri e hai realizzato qualcosa di magico qui a Roma, il centro del mondo. E' vero. Io dovrei avere, Duilio, io dovrei avere qualche fotografia, vediamo un attimo se riesco a trovarla. Ok? Della copertina, eccola qua, colorista vincente con il Colosseo, che è stata meravigliosa. Ma poi la cosa bellissima, questi ragazzi, eccola qua, questa sala, si chiamava la sala? Si chiamava, si chiama Teatro Arma, ed è vicino proprio lì. Teatro Arma? È un teatro più privato dove, bello, bello, mi è piaciuto molto, era particolare, molto... Sì, molto... Quanti partecipanti ci sono stati? Ma guarda, in tutto eravamo 25, e i partecipanti 17 e 18. Fantastico, fantastico. Complimenti a tutti. Ma guarda, c'era gente spettacolare. Poi hanno, non so se mi senti bene... Sì, ti sento perfettamente. Ok, Mario Cagliotti ha fatto vedere i colpi di sole ghiaccio senza tonalizzare, che è uno dei miei metodi, e lui me l'ha fatto in diretta, con le sue dovute improvvisazioni, perché è molto bello questo. Perché io quando insegno, libero l'estro, ma non ti dico, guarda, è finita qua, è da me, hai imparato tutto, e no, assolutamente. Io sono... I casi lì sono un po' da stimolo. E poi è arrivato anche il team di Wonder Protein a fare un trattamento illisciante, perché volevo far capire come si usa la piastra, perché non si sa bene, con tutti questi cambi di componenti, alla fine veramente fai solo tanto pasticcio. Quindi, insomma, abbiamo dato anche una dimostrazione pratica di come in una giornata si possa parlare veramente e fare di tutto. Quindi, d'ora in poi, Roma... Beh, Roma è stata la prima tappa, poi io credo l'Italia e il mondo sia anche abbastanza grande. L'importante è iniziare e partire. E ho notato attraverso le foto che hai postato, i partecipanti sono stati veramente molto, molto soddisfatti di questo, emozionati. Quindi, sicuramente il tuo insegnamento è un po'... è proprio rivoluzionario, nel senso, è un nuovo modo di comunicare la colometria applicata nell'ambito dei capelli. Esatto. Altri punti futuri per portare avanti questo progetto? Adesso che intenzioni hai? Hai altre date? Stai preparando? Sì, ce ne saranno due, sicure, perché devono essere centellinate, perché poi ognuno di questi colorista in Vincente Evolution sarà poi l'evoluzione di quello precedente. Quindi è sempre più ricco, sempre più ricco. Il prossimo lo faremo... Ok, Salerno e Sicilia. Non so ancora bene la città. E poi di nuovo a Roma. Ah, perfetto. Benissimo. Benissimo. Vedo che ritorniamo anche un po' alla normalità. Eh beh, si spera, si spera, davvero. Si spera, perché sennò siamo tutti quanti alla canna del gas. Tutti. Sì, esatto. Oggi qui a Roma ci sono stati dei colleghi che sono andati al Parlamento, se vuoi. Sono stati accolti, Alessandra Bei, che è riuscito a parlare con qualche politico. Oggi io ho postato anche questi video diretta che hanno fatto. Bravo, Francesco. Siamo un attimo tutti quanti nella stessa barca e io credo come personaggio italiano, Alessandra Bei, è importante anche persone come te. Già, è vero. Tutti quanti facciamo la nostra parte, noi sognatori inguaribili, noi innamorati di questo lavoro, delle donne, dell'arte, queste cose qua. Ed è giusto che ognuno di noi dia un piccolo... Tu lo stai dando tanto, eh? Perché noto che le tue trasmissioni sono molto culturali. Non sono solo moda... Sì, ma vedrai... Sì, esatto. Ma vedrai poi, un pochino un po' più avanti, stiamo preparando delle cose fantastiche con Riccardo Cristino Designer, che le prossime puntate noterete un cambiamento sostanziale nella comunicazione, la nuova comunicazione che stiamo realizzando del cambiamento, del vivere, di lavorare e comunicare. Adesso tu sei uno delle perle di sapere in questo momento, un po' in difficoltà, ma appassionato in quello che tu fai, sarai ripagato in tutti i sensi, nel senso anche nella fatica, che te e tutto il tuo team che ti sta aiutando e ti sta sorreggendo bene. Sono molto contento di questo e non abbiamo potuto fare una diretta insieme a te, perché sicuramente c'erano problemi tecnici, perché tante persone, d'accordo, però quelle giuste, con le funglie cerchiamo di parlare un pochino per quello che è successo e io ti vedo adesso più rilassato del tuo insegnamento. Allora, ti dirò una cosa, e queste sono riflessioni che abbiamo fatto con chi, perché c'erano, ha già partecipato alle edizioni precedenti di Colorista Vincente Evolution. A un certo punto mi hanno preso da parte e mi fanno, ascolta, sarebbe utile, sarebbe ora, che a questo punto, dopo tanto studiare e tanto aiutarci, ci potessi dare un colore tuo. E mi dice, siete matti, ma sapete quanti soldi ci vogliono in un impegno, organizzazione? Fatti aiutiamo noi. Ci hanno fatto partire da Roma e fa, non pensiate che noi adesso vi lasciamo soli, a me e a annunzio, perché effettivamente è un'idea che ho da tanto tempo. Non lo so cosa succede, però se succede qualcosa, succede in tempi molto brevi, perché ho voglia veramente di fare, di coronare un sogno, fare uscire un colore che sia perfetto, sotto tutti i punti di vista, quindi il meno tossico, il meno aggressivo, il più performante, il più puro e tante altre cose. Ho detto giusto? Perché c'è quella russa. Facciamo la differenza. Bene, Duilio. Vedo l'esplosione. Eccolo. Ogni tanto va via. Vieni, vieni, vieni. Dici anche te qualche cosa. Se vuoi. Io veramente voglio andare in professionamento. Grazie. Però, visto che c'è la possibilità di fare qualcosa di diverso e che non dipendiamo dai soliti che decidono le parti, perché non fare qualcosa di veramente diverso? Ma semplice, ma molto diverso. Così va bene a tutti, va bene sia quelli che sono tecnici e anche quelli che magari lo sono un po' meno. Di fatto è la nostra occupazione della vita. Chissà che stavolta non ci riusciamo. Comunque ci rivedremo. Bene, vedi, l'officina dell'idea nasce proprio anche in campagna, spagandosi. E questo è un po' meno, è bellissimo. E' da ma ne siamo avanti dalla vita, da gli sperimentatori. Quindi, non ti dico quante nottate ci siamo… No, no, non è appunto vero. Lui è lì, il segno. Io sono quello che rimane in pasta, quello che le mette dentro. bene ragazzi io vi lascio il vostro lavoro e poi ci rivedremo al più presto con le due dirette per raccontarci ancora queste novità la prossima volta ti racconto una cosa molto simpatica che potrà essere utile da tanti va bene? a studio tranquillità e non la diretta così temporanea però è più naturale più vera assolutamente tieni presente che la prossima volta regalo una chicca ah fantastico allora ragazzi la prossima Duilio Torre ci regalerà anche lui una perla di sapere e non c'è Bologna sarà sempre vicino a me ciao ragazzi ci vediamo ciao a tutti agli ascoltatori tu sei un grande Francesco credimi sei un grande ciao ciao